Ciao ragazze, nuovo video, video su FM, questo è un video che avevo già girato ma ho avuto dei problemini quindi l'ho dovuto cancellare, quindi eccomi a rifarlo, ed è il video appunto su come si diventa distributrice FM e sul kit, allora io sono diventata distributrice FM tramite una ragazza che ho conosciuto qui su Youtube che è Roberta, Graphic Creation Sunshine che anche lei è qui di Torino, infatti abbiamo fatto anche un vlog insieme e appunto lei mi ha detto che appunto faceva FM e me ne ha parlato un po' e io inizialmente non volevo farlo, poi sentendola parlare eccetera eccetera mi ha invogliata, sono andata appunto ad una riunione e sono entrata appunto in FM e mi hanno dato il kit con l'iscrizione ed è questo è il kit, questo qua, è quello da 50€, ce n'è anche uno più piccolo da 25€ che però parlando appunto con Roberta che diciamo tra virgolette è la mia capa, diciamo così, ciao capo, e anche con altre persone mi hanno detto che è sconsigliato quello da 25€, non perché non vada bene o sia difettato o cose del genere, ma semplicemente perché questo qua da 50€ è completo, ha tutti i campioncini di tutti i profumi, mentre invece quello da 25€ ne ha la metà se non meno, quindi potrebbe essere poi complicato fare delle vendite essendo che magari non sia i campioncini di determinati profumi che delle clienti vorrebbero sentire. Quindi questo è il kit, come vedete è anche molto elegante qua al logo FM e a prenderlo troviamo i campioncini di profumi, questo è uno spazio vuoto che in cui lasciano appunto vuoto per magari dei profumi che usciranno in seguito, quindi per appunto aggiungere dei campioncini e non tenerli sparpagliati da qualche parte. Poi insieme al kit vi arriva, io parlo come se voi voleste entrare in FM però ovviamente è tutto detto così. Appunto in questo kit si trova anche tutte queste cose qua, un bordello di carte diciamo così e di queste cose fanno parte i tre cataloghi, quindi uno per tipo, uno sui profumi, uno sul make up e uno sulla casa. Poi col primo ordine ovviamente se ne volete di più li potete ordinare a un euro l'uno. Questi cataloghi rimangono tali per un anno, quindi non vi serve comprarli ogni settimana, ogni mese, basta che non so col primo ordine ve ne comprate un po', poi mettete che vi finiscono per qualsiasi motivo dopo non so sei mesi ne comprate qualcun altro. E appunto sono questi qua e potete comprarne uno come potete comprarne mille. Poi un altro cataloghino che è questo, che questo qui è per noi distributrici, in cui viene spiegato tutti i vari livelli che si possono raggiungere, dei consigli che si possono avere, queste cose qua. Poi all'interno c'è, aspettate, ho tutti i listini prezzi perché io poi ne avevo ripretti. Ok, perché poi io adesso qui ho anche delle cose che mi erano arrivate col primo pacco che non servono a niente, che ve le faccio vedere perché sono tutti uguali. Ok? All'interno trovate anche questi due che mi direte, Roby sono identici. Sì, in effetti sono identici, all'apparenza, ma l'apparenza inganna. Quindi questo è il listino prezzi e questa è la shopping guide. Questo qui, che è il listino prezzi, che appunto è per noi distributrici, vi mostra il prezzo al cliente, il prezzo a noi e i punti che noi possiamo guadagnare tramite tutti i prodotti. Perché ogni prodotto FM ha un punteggio e quel punteggio a fine mese si trasforma in un ulteriore guadagno che vi verrà mandato direttamente da FM sul conto. Poi questa invece è la shopping guide, in cui ci sono tutti i prodotti di tutti e tre i cataloghi con solo il prezzo al cliente. Poi, quest'altro cataloghino qui, che è la Be Blue Can Active, che sono dei prodotti che appunto vengono mostrati sul catalogo, ma qua vengono descritti con più dettagli. Poi, appunto, vedete, io ho qua un sacco di shopping guide e listini prezzi che mi sono arrivati col primo pacco, che io tengo tutto lì. Poi vi viene dato anche uno di questi, questi qua. Questa è la fotocopia, ma vi viene dato un originale. E questo qui sono dei fascicoletti da lasciare alle clienti. Se volete, ovviamente, non siete obbligate. Poi, ovviamente, c'è la domanda di collaborazione, questa qua. Questa è la coppia che è rimasta a me, in cui appunto si devono inserire dati, quindi nome, cognome, carta d'identità, il comune, i dati della carta d'identità, data di nascita, codice fiscale, luogo di nascita, poi se sia uomo o don. Poi, dove si abita, l'indirizzo per la consegna. Se volete, non so, entrate in FM e abitate, non so, in via Pino, c'ho un Pino davanti, mi è venuto via Pino 15, ma non siete mai a casa e quindi non potreste recapitare il pacco. Mettete, non so, vostra nonna abita in via Quercia 12, mettete via Quercia 12. Sono cose a caso, perché dalla mia finestra compare il bosco, quindi ho detto di non mi cavolo. E quindi appunto, come io ad esempio qua ho messo il mio indirizzo e qua quello di mia nonna, perché appunto il pacco lo faccio arrivare da mia nonna che è sempre a casa. Poi appunto, numero di telefono, mail, eccetera, eccetera. Poi qua dovete inserire il vostro codice IBAN, in modo che appunto FM possa mandarvi quell'ulteriore guadagno tramite i punti. Poi sotto c'è la scritta, non vi faccio vedere da vicino, comunque non voglio che si vedano i dati personali né miei né di Roberta. Comunque dovete scrivere nome e cognome di chi vi sponsorizza e il codice sponsor, qui che è il codice, è il nostro codice. Poi ovviamente la data del giorno e la firma. E questo è tutto il, diciamo, contratto. Questa non c'entra niente, è la ricevuta del pacco, vabbè. Poi ci sono questi altri due opuscolini, che sono i passi per il tuo successo e questo che raggiunge i tuoi sogni, quindi sono altre cose per noi in cui ci spiegano, non so, come poter vendere un pochino di più, come arrivare a certi livelli, eccetera, eccetera. e poi questo qui, che è il primo, il secondo e il terzo ordine, quindi diciamo i primi tre passi da svolgere. Ed sono, diciamo, incentivazioni che invogliano comunque noi distributrici, appunto, Roby, uno, due, tre, che invogliano noi distributrici a vendere di più. Yeah, ce l'ho fatta, ok. Quindi, col primo ordine, se si fa almeno 300 punti e ogni prodotto ha un punteggio, un punteggio diverso, e con un importo massimo, quindi da non superare i 500 euro, e se fate i 500 euro state sicure che altro che 300 punti fate. Contate che io sono arrivata a poco più di 300 punti con circa 160-170 euro, quindi è molto facile. Adesso non mi ricordo la cifra esatta, neanche i punti. E comunque, se si fa l'ordine nello stesso giorno in cui la responsabile manda l'ordine, perché il primo ordine lo si può mandare tramite la responsabile, appunto, per avere questa incentivazione, si ha un 10% di sconto su tutti i prodotti che si sono venduti, quindi voi avreste un ulteriore guadagno. Se invece l'ordine lo si manda dopo l'iscrizione, è dentro il primo mese, si ha comunque uno sconto del 5%, quindi comunque un guadagno in più. Per quanto riguarda il secondo ordine, realizzando... Ce la faccio oggi ragazze! Se lo si fa entro 60 giorni con almeno 400 punti, si ha diritto ad una ricarica telefonica da 10 euro. Per quanto riguarda il terzo ordine, se fatto entro 90 giorni con almeno 500 punti, si ha diritto a un buon omaggio per il carburante, quindi benzina, cose così, da 20 euro, che fa comodissimo. Penso che chi di voi ha la macchina sappia che fa stracomodo avere 20 euro gratis di benzina. E quindi queste sono le prime tre incentivazioni che FM dà. E poi qua dietro c'è un modulo d'ordine. Qua ci sono delle caselline in cui potete... C'è un po' di c'è articolo, descrizione del prodotto, quantità, prezzo totale e punti totali. E' comodo per tenere le cose in ordine, ma io ad esempio mi sono comprata a parte un blocchetto ordini, perché magari qua non ci stanno. Quindi questo. Queste sono le cose che appunto trovate all'interno del kit. Per quanto riguarda i profumi, i campioncini di profumo che ci sono, sono divisi in uomo, donna e uso. Sono facilissimi da trovare perché... Aspettate... Apriamo una pagina a caso, ok. Io ho aperto questa ma è una pagina a caso. Vedete qua ci sono i codici dei prodotti. E vi basterà leggere codice 283, 83, qualsiasi numero sia. E qua, su ogni campioncino, ogni campioncino ha un numero. Quindi vi basterà andare a cercare quel numero e troverete la fragranza corrispondente. I campioncini sono divisi appunto in uomo, donna e lusso, uomo azzurro, donna rosso, lusso dorato. Non si vede una cippalippa. Si nota che è dorato? Spero di sì. Quindi anche lì è molto facile andarlo a cercare perché se il codice 20 è da uomo sapete che non dovete andarlo a cercare nei codici dorati o nei codici rossi. Quindi è molto più facile e viceversa se è una donna va andatene subito nei codici rossi se no nei codici oro sei di lusso. Quindi è veramente molto facile. Sono comunque in ordine crescente, quindi dal numero 1 andando in su. ed è veramente molto 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 comodo perché in questa cosina qui ci sta veramente tutto, cataloghi eccetera eccetera. Ovviamente se avete dieci cataloghi qua dentro non ci stanno. Però quello che consiglio io è averlo sempre almeno un catalogo per tipo dietro in modo da poterlo far vedere oppure avere queste fotocopie qui che sono ancora più comode. E niente, questo appunto è tutto il kit. Chiudiamolo, ho lasciato tutto fuori. Io chiudo il kit lasciando tutto fuori. Roby sei un genio oggi, vabbè. Comunque vi dicevo, vendere FM è abbastanza semplice. Nel senso che a differenza di altre case, altre aziende, cose così, che vendono magari solo make up, oppure solo profumi, oppure solo prodotti per la casa, FM fa tutti e tre messi insieme, quindi profumi, casa e make up. Quindi magari per le ragazze più giovani che ancora non si occupano della casa perché le fa tutta la mamma, beate loro, vanno dritte sul make up o sui profumi. Invece magari donne più mature che del make up non ne frega niente, o anche sono allergiche al profumo quindi non possono metterlo, vanno dritte sulla casa. Chi è amante dei profumi ma non può magari permetterseli, ci sono i profumi a prezzi bassissimi perché noi i profumi più cari li vendiamo a 34 euro circa. Quindi sono prezzi bassissimi considerando che se si va in profumeria li si trova a 100, 150 eccetera eccetera. Quindi poi sono ottimi prodotti, i prodotti make up sono minerali, i mascara ad esempio sono privi di siliconi, sono veramente molto buoni. Io sto provando tanti prodotti della linea casa e con i quali mi sto trovando con tutti da Dio, veramente da Dio, ho fatto anche la review sul profumo per auto, poi presto farò un review anche su altri prodotti, tra i quali quelli di make up che ne ho già provati tutti. Per quanto riguarda i profumi non ne ho ancora presi, quindi non posso dirvi più di tanto. Che altro dire? Ah, se in caso siete curiosi di avere più informazioni riguardo a FM, contattatemi pure anche in privato così che posso spiegarvi per filo e per segno tutto. Io cerco anche collaboratori e collaboratrici, quindi se siete interessate contattatemi, quindi io vi darò tutte le informazioni, sia che siate di Torino sia che non lo siate, perché io posso nominarvi anche se siete lontani mille miglia da me. Semplicemente io prenderò il kit e ve lo spedirò. Ovviamente dovreste, se siete qua di Torino non c'è nessun problema, ci vediamo e parliamo di tutto. Se invece siete lontane, me lo dite, mi mandate i 50 euro, ovviamente perché io non ho le possibilità di anticiparli, ecco, punto, fine, non ho le possibilità di anticiparli, poi comunque, sì, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, diciamo così, non per qualcosa, ma si sa che non si fa di tutta un'erba o un fascio, ma meglio prevenire che curare. Quindi mi mandate i 50 euro, io ordino il kit, ve lo spedisco, una volta che voi ricevete il kit, compilate questo foglio, io ovviamente vi darò i dati miei da compilare nella parte inferiore, poi me lo dovrete rispedire, in modo che io poi lo spedisca io direttamente in azienda oppure mi faccia aiutare dalla mia responsabile, lì poi vedrò sul momento. E niente, questo è tutto, quindi non c'è, non è chissà quanto difficile entrare in questa azienda, anzi, è facilissimo, è una bellissima azienda, perché veramente io avevo sentito parlare di FM ma non ce l'ho mai voluta entrare, invece adesso ci sono voluta entrare e sono contenta, sono veramente contenta, anche perché andando avanti con i vari livelli ci sono sempre più incentivazioni, sempre più guadagni, e penso che a chiunque faccia piacere, che arrivati a un certo livello faccia piacere ricevere una macchina gratis. FM fa questo, se si arriva ad un certo livello che non è difficilissimo, non è lontanissimo arrivarci, si può avere diritto ad una Smart gratis, poi più si va avanti di livelli più la macchina diventa grande, si va avanti con i vari Mercedes, quindi sono macchine molto belle, ma poi comunque fossero anche ben delle ciofeiche, è sempre una macchina gratis, quindi fanno molto comodo, FM veramente dà moltissime incentivazioni, e quindi se vi va io vi consiglio di provare a entrare in questo grande gruppo, in questa grande azienda, perché comunque ci sono grandissime, ma veramente grandissime possibilità di guadagno, e anche tante e grandi soddisfazioni, quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, e appunto come vi ho detto prima, se siete interessate non esitate a contattarmi, un bacio e alla prossima... ragazze oggi non ce la posso fare, ciao ragazze al prossimo video!